E allora rieccoci, rieccoci cari amici del canale YouTube, ben ritrovati, buon venerdì, vigilia di Milano a Fiorentina, domani si torna a giocare, domani si spera di interrompere questa striscia di non vittorie del Milan, quattro partite, due sconfitte e due pareggi con la Fiorentina, nonostante l'emergenza, dove però il Milan da mesi è costretto a vivere questa emergenza, bisogna trovare la vittoria, bisogna trovare assolutamente la vittoria, ma andiamo subito al dunque perché so che è argomento di discussione e vi chiedo sempre di commentare in tanti, fatemi sapere cosa ne pensate, ho aperto anche un sondaggio sul nostro canale YouTube, vorreste Camarda titolare contro la Fiorentina, valutiamo insieme i pro e i contro. I contro sono pochi ma comunque importanti, il giocatore ha 15 anni, è la sua prima esperienza da convocato in prima squadra e sapete benissimo, il ragazzo di 15 anni può anche soffrire un po' la pressione, il momento, ci sono 72 mila spettatori in Milan-Fiorentina, fisicamente magari non è ancora pronto a subire spallate, gomitate, contrasti di gioco, questo è l'unico contro di un possibile esordio di Camarda, addirittura qualcuno pensa e spera che possa giocare dal primo minuto al posto di Jovic, però a favore è un giocatore fresco, un giocatore che ha personalità, un giocatore che segna, perché Camarda ha sempre segnato, fin da bambino, fin da quando aveva 13 anni, in tutte le categorie, anche con la maglia della nazionale, anche in Youth League, nonostante ha solamente 15 anni. Ieri è arrivato l'ok da parte della FIGC per il tesseramento di Camarda per la prima squadra, perché voi sapete che Camarda non è ancora, non ha ancora firmato un contratto da professionista col Milan, perché ha solamente 15 anni, 16 anni li compie a marzo, quindi quando compie 16 anni può firmare un contratto da professionista, prima dei 16 anni deve avere una speciale deroga da parte della FIGC, è arrivato l'ok e quindi può essere convocato anche a livello burocratico. Però il dibattito si è scatenato, chi dice facciamolo giocare dal primo minuto, chi è un po' più cauto e si augura solamente l'esordio in Serie A a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, cosa vorrebbe dire? Record assoluto. Camarda, se gioca almeno un minuto con la Fiorentina domani sera, entra nella storia della Serie A. Ed è bellissimo per lui, ed è bellissimo per il fatto che sia un giocatore del Milan, e ancora una volta un giocatore del Milan, lo era stato Donnarumma, lo era stato Paolo Maldini, Rivera, il Milan comunque continua a sfornare ogni tanto questi piccoli fenomeni, questi piccoli campioni. Ce lo auguriamo perché Camarda è un ragazzo davvero intelligente, con la testa sulle spalle, un ragazzo che ha personalità, un ragazzo che non ha paura delle pressioni, anche perché è sempre stato etichettato, un po' come il giocatore predestinato, un po' come il giocatore che doveva avere un certo tipo di carriera, perché ha sempre fatto un sacco di gol. E allora, è giusto farlo giocare dal primo minuto? Questa decisione clamorosa, se dovesse arrivare, che ripercussioni avrebbe su Camarda, ma anche su Jovic? Io mi metto per un attimo nei panni di Jovic, vengo al Milan perché voglio dimostrare di essere ancora un giocatore valido. Fino ad ora ho fallito, lo si può dire, no? Fino ad ora ho fallito. Mi viene preferito Okafor dal primo minuto, ma si fa male, quindi ho la possibilità di giocare dal primo minuto e mi fanno giocare dal primo minuto Camarda, ragazzino di 15 anni. Se dovesse avvenire una roba del genere, fosse Jovic, il giorno dopo andrei a rescindere il contratto perché mi sentirei anche umiliato, ma questo ovviamente dipende solo dal giocatore, perché vuol dire che fino ad ora Jovic non ha dimostrato nulla, se addirittura Pioli pensa di mettere dal primo minuto Camarda. Cioè, non è una difesa di Jovic, attenzione, non fraintendete. Sto dicendo come può essere umiliante per un giocatore come Jovic vedere Camarda giocare dal primo minuto un ragazzo di 15 anni, cioè vieni scavalcato addirittura da un ragazzo di 15 anni. Se fossi lui, e succederebbe una roba del genere, me ne andrei dal Milan, ma giustamente anche per il Milan potrebbe succedere una roba del genere, nel senso che comunque non si è mai visto che un giocatore esperto di 24-25 anni viene scavalcato da un quindicenne. Questo solamente per dire che comunque ci potrebbero essere delle ripercussioni. Detto questo, Billy Costa-Curta si è totalmente schierato a favore di Camarda dal primo minuto. Questa sua tesi ha molti sostenitori. Lui dice, Camarda è meglio di Jovic, io lo farei giocare titolare come? Ha 15 anni, è un giocatore che fa gol come quello in rovesciata contro il Parisager Man in Youth League, ha spiegato l'ex difensore rosso-nero. Poi sulla sofferenza dal punto di vista fisico che può avere Camarda in una partita di Serie A, lui dice, soffrirebbe la fisicità dei difensori avversari? Certo, ma mi è impressionato la capacità di liberarsi dall'uomo in mezzo all'area, che ho visto fare solo a Pippo Inzaghi, quindi già cominciamo con i paragoni e paragoni forti, pesanti, perché Pippo Inzaghi è stata la storia del Milan, ma è anche la storia della nazionale italiana, giocatore che ha sempre fatto gol. Lui dice, sta facendo bene, avevano gli stessi dubbi quando è arrivato in primavera, sembrava fosse un azzardo, ora sembra sia un azzardo farlo esordire in Serie A, ha concluso Billy Costa Curta, quindi lui è totalmente a favore di un impiego, un utilizzo di Camarda dal primo minuto contro la Fiorentina. Secondo me va valutata bene come cosa, perché comunque ci sono dei rischi da tenere in conto, ragazzo di 15 anni, anche a livello fisico, però ecco la tentazione è forte. Io penso comunque che dal primo minuto giochi comunque Jovic, questa sensazione. Poi chiudiamo con la questione infortuni, perché sta diventando davvero una maledizione, un qualcosa di terribile ogni volta arrivare in prossimità della partita e scoprire che ci sono giocatori infortunati, chi ha la febbre, chi ha il virus, chi ha l'infortunio al polpaccio, chi ha il bicipite, chi ha il flessore, sta diventando davvero complicato persino fare una probabile formazione, perché magari ipotizzi una probabile formazione, la provi anche in campo a Milanello e poi si fa male qualcuno e devi stravolgere tutto. Vedi l'ultima situazione relativa a Okafor. È vero, Okafor si è fatto male in nazionale, però comunque nonostante tutto queste situazioni e gli infortuni vanno ad incidere sul Milan. Mi piacerebbe vedere un Milan al completo più volte, perché il Milan al completo, il Milan che schiera tutti i titolari, è una squadra forte, è una squadra forte, è una squadra che sa giocare anche a calcio. Vedi per esempio la partita contro il Parisa Germania, tutti davano il Milan per spacciato prima della partita, pochi avevano pronosticato una vittoria, inutile girarci intorno. Il Milan sfodere una gran partita, vince 2 a 1 col Parisa Germania, addirittura in rimonta e guarda caso in campo c'erano 11 titolari. Ora non dico che debbano esserci sempre 11 titolari, perché comunque ci sono le rotazioni, le squalifiche e così via, ma vedere più volte un Milan con i titolari non sarebbe per niente male. Ce lo auguriamo perché davvero pochissime volte abbiamo visto la squadra al completo e il Milan al completo è una squadra valida. Questo vuol dire che il mercato non è stato così fallimentare. Poi è chiaro che bisognava prendere magari qualche giocatore in più nei sostituti, per esempio non c'è un vice Teo, non c'è un vice Giroud e questo lo abbiamo sempre detto. Negli altri ruoli invece il Milan quest'anno ha delle valide alternative. Però la questione infortuni sta incidendo molto sulla classifica in Serie A, sul rendimento in Champions League e anche sulla panchina di Stefano Pioli, perché attenzione le prossime due partite sono pesanti anche per Stefano Pioli. La panchina non è così salda, ha già perso troppe partite Stefano Pioli, quindi le prossime due contro Fiorentina e il Borussia potrebbero dire molto. Noi ci vediamo nel pomeriggio, ci sarà proprio la conferenza dell'allenatore Rossonero che parlerà di tutta questa situazione, degli infortuni, ma anche di Camarda e quindi valuteremo cosa dirà anche l'allenatore Rossonero. Ciao!